E' venuto a trovarci di nuovo il sindaco di Milano, Gabriele Albertini! Grazie a tutti! A quest'ora con i bambini, i bambini che guardano la televisione! Ma cosa dici? Questo è un numero normalissimo, la lap dance, la ballano tutti ormai, che dici? Ma bolla un waltzer, una rumba, un tango, un cha-cha-cha, non queste cose! Ancora con queste idee? Questi sono i balli moderni! Questo ballo? Io sono antico! Sono cose vecchie quelle che dici! Ah sì? A Maria Amelia Monti! No, faccio la parte di Ursula Andres! Adesso non mi piace niente perché Ursula Andres faceva un altro tipo di passo, faceva un passo caraibico, non questa cosa qui! Vede che lei non capisce le esigenze dello spettacolo, il passo che faceva Ursula Andres! Grazie a tutti! 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 Non ho visto ancora la miniserie e chiaramente non ho ancora... ...boss malavitosi, eccetera. E quindi, niente, questa è la sua caratteristica. La vostra vita che vi hanno fatto soffrire molto? Uuuuh! Fra le signore qua in studio. Facciamo prima. Mi vogliono bene con le persone che non mi vogliono bene. Ho imparato, siccome non mi so molto ben difendere, ho imparato a eliminarle semplicemente con una riga di penna e non le considero più. Ma però questo credo che sia anche... Perfetto. Così. Allora che fa? Resta un'ugopia! Io credo che prendo casa a Milano. Io credo che sì. Bene, rimane con noi, Google. Grazie, venga. Bene. E noi andiamo avanti. Ci guardiamo lo scherzo fatto al grande campione Mario Cipollini. Non è possibile. Vada e retro Satana, vada e retro Satana. Si rende conto che cosa ha combinato, signorina? Alcuni, guarda che lei non si muove a tempo come si bisogna fare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti